Mi sento bella di aggiungere che questo percorso mi sta piacendo tantissimo è qualcosa che vorrei spiegare veramente a tutti Ciao a tutti, io mi chiamo Laura e mi sono laureata l'anno scorso in psicologia clinica ho scelto questo percorso perché dopo la laurea in psicologia clinica volevo trovare un corso che mi permettesse di approfondire degli argomenti che mi avevano entusiasmato e mi avevano appassionato durante il mio corso di studi mi sono iscritta per approfondire le conoscenze di questo tema che mi ha appassionato tantissimo e che vorrei continuare a coltivare anche per la mia professione futura e questo corso mi è piaciuto tantissimo il fatto di poter mettere già in pratica le cose insegnate dai docenti quindi ad esempio in sabato e pomeriggio comprendono sempre delle esercitazioni pratiche dei role playing, delle discussioni di casi clinici e anche tutto il materiale formativo che ci è stato fornito da tantissimi articoli, in formato digitale, video e tutto questo è stato di grandissimo aiuto penso che sia utile perché vorrei portare avanti questa passione che mi è nata appunto fin dalla triennale e penso che sia un qualcosa che in realtà a tutti i professionisti della salute mentale sia i psicologi, sia i medici, le estetriche o comunque un corso che in realtà consiglierei a tutti perché proprio ampia la visione delle cose quindi penso che sia essenziale sia nella pratica clinica in generale come futura terapeuta sia come consulente sessuale ed è bello poterne parlare, parlarne in libertà e magari sdoganare certi tabù che ci sono in classe eravamo diverse figure professionali eravamo sia psicologi sia ancora studenti di psicologia oppure sostetriche, medici quindi la classe è abbastanza eterogenea devo dire ed è molto bello, si è creato un clima soprattutto di accettazione, di aiuto, di complicità e di scherzo il mio sogno professionale è quello di poter portare tutto quello che sto imparando nella mia pratica e di poter aiutare soprattutto le persone che magari verranno in futuro in consultazione da me di poterle aiutare a ritrovare sia una propria stabilità che un proprio benessere e soprattutto di poterle aiutare sento di aver acquisito una maggiore sensibilità alla persona in generale quindi all'individuo nella sua totalità anche negli aspetti di neutro sessuale che tanti volte non sono presi in considerazione durante una consultazione terapeutica secondo me fare divulgazione in questo ambito è veramente importantissimo le conoscenze non sono mai abbastanza compilite le persone sono sempre più curiose e la loro curiosità tante volte è soddisfatta e sento che con questo percorso formativo mi sono resa conto io stessa di avere delle nazioni che sono state che in questo momento mi stanno colpando quindi sono desiderosa di portarle anche all'esterno e di far conoscere a tutte le persone degli aspetti che in realtà ovunque non dovrebbe sapere e dovrebbe venire a conoscenza e soprattutto di portare anche benessere e tranquillità e salute mi sentirei di aggiungere che questo percorso mi sta piacendo tantissimo sono estremamente contenta ed è qualcosa che borschio veramente a tutti e soprattutto di approfondire i temi legati alla sessualità la sessualità è qualcosa che riguarda quello di noi ed è bellissima ed è molto soddisfatta e sapere